Ciao a tutti Youtubers, oggi vi mostrerò come scaricarmi. Il tutorial e il link per il download lo metterò nella descrizione, perché mi rompevo gli zbedei a fare un video a lungo, quindi non lamentatevi, o vi mando il tenente Morse. No, cazzo! Guardate, cazzo! Mardello di Morse! Mardello di Morse! Basta! Ma, f*****o! Giornati i coglioni!